Ci siamo, eccoci qua. Bentornati in questa seconda ora del nostro EveryTalk. Luca, benvenuto. Eccomi, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato, è un piacere averti qua. Luca, fondatore di LKA, si pronuncia così, preferisci LKA? No, 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 LKA, LKA, va benissimo, va benissimo. LKA, che è il team, come già vi dicevo, insomma, stamattina e all'inizio di questo appuntamento, che ha dato i Natali a The Town of Light, che presto ci porterà un'altra avventura interattiva, tinte horror, chiamata Marta is Dead. Luca, vuoi raccontarci, fare un po' di presentazione, raccontarci anche un po' il background del tuo team, la composizione del tuo team, e poi entriamo magari più nel dettaglio e facciamo vedere anche i trailer di Marta is Dead, anche se scoprirai il nostro pubblico, lo conosce ed è molto curioso. Sì, sì, volentieri, volentieri. Sai, noi, è il nostro secondo titolo, quindi siamo un team abbastanza giovane, e nati anche in modo un po' particolare, perché The Town of Light fu sviluppato senza fondi, e sono bisogni un po' che sembrano impossibili, invece noi abbiamo avuto la fortuna, per qualche motivo, di riuscire a portarlo fino in fondo. Quindi per me il team LKA è qualcosa in più di un team normale, è una famiglia veramente, perché tu immagina che il titolo è venuto fuori grazie all'investimento di tempo, di lavoro, di passione di tutti i ragazzi. Quindi, insomma, abbiamo sempre avuto un modo di lavorare molto condiviso, naturalmente siamo team piccolo, però in ogni caso, insomma, ecco, siamo una realtà molto coesa, devo dire. Quanti siete? Adesso siamo dieci, siamo dieci, sì. Quindi, insomma, infatti mi sembrano tantissimi a me, a dire la verità, e poi dici siete un team piccolo, ma insomma... All'inizio di The Town of Light, vabbè, era proprio poco più di un esperimento, quindi all'inizio eravamo due, poi tre ragazzi che magari all'università avevano seguito il mio corso su Unity al tempo, quindi, sai, gli interessava, una cosa un po' particolare, e quindi è nato così, senza, dice, vabbè, ora facciamo un gioco. Si sperimentava, fino a poi la cosa si è un po' ingrandita da sola, l'idea piaceva, i feedback erano buoni, e anche se qualcuno ci diceva, ma il tema è un po' strano, magari a livello di mercato potrebbe non avere un riscontro particolarmente positivo. Noi testardi siamo andati avanti, e insomma è andata bene, nel senso che poi non è che The Town of Light ci ha arricchito sicuramente, però ci ha dato la possibilità di definirci un team e anche di aver fatto un'operazione che un minimo di senso, anche da un punto di vista economico, ce l'ha avuta, cosa che è molto importante, perché poi si può investire qualche anno, poi a un certo punto bisogna anche piano piano iniziare a strutturarsi come un'azienda, insomma, chiaramente. Certo, fra l'altro vedo Lelli che l'ha giocato, The Town of Light è, ringrazio Roberto che sta lanciando il link alla pagina Steam del gioco, è un'avventura horror ambientata all'interno del manicomio di Volterra, fra l'altro, insomma, i ragazzi lo sanno, te l'anticipavo ieri, ma con loro parlo quotidianamente, e gli raccontavo di quando sono entrato proprio nel manicomio di Volterra, perché facendo questo spot sulla regione toscana e sui luoghi del fantastico e della cultura nerd della regione toscana non ho potuto non citare appunto il manicomio. Il gioco The Town of Light era nato come volontà di digitalizzare quegli spazi e renderli visitabili da un punto di vista, insomma, in un'altra forma, e poi si è aggiunta la componente ludica e narrativa, com'è nato? Sono curioso. Sì, sì, guarda, in parte è così, perché io usavo Unity in tutt'altro settore. Certo. Però, naturalmente, un po' sogno nel cassetto di fare un gioco c'era sempre stato, però, diciamo, i primissimi passi sono stati mossi per sperimentare le capacità di visualizzazione di Unity, perché io facevo roba graficamente più semplice, perché dovevano essere cose veloci, facciamo simulazioni di spettacoli per ridurre i tempi di prova con Unity. Quindi, sai, era roba che era... bastava quello che bastava, non c'era bisogno di lavorare sulla visualizzazione da un punto di vista di fotorealismo, via dicendo. E quindi il posto era talmente bello, io lo ci capitai per caso, che mi si dico, vabbè, proviamo a vedere dove può arrivare Unity come capacità di visualizzazione, quindi è nato principalmente per questo. Poi l'ambiente, sai, era perfetto, no? Per un gioco molto creepy, eccetera, eccetera. E poi all'inizio anche che direzione prendere è stata una cosa non immediata, no? Perché tu potevi sfruttare quel posto per fare un horror più classico, se vogliamo, quindi senza mettere i piedi nel settore della malattia mentale. Certo. E della storia dell'istituzione. Invece poi abbiamo deciso di percorrere quella strada lì che era la più difficile, però era anche la più affascinante, perché studiando, indagando, insomma, era venuto fuori delle realtà che andavano veramente oltre la fantasia, no? Cioè, si apre veramente una porta su un mondo oscuro che è stato quello dei manicomini, come veniva. Insomma, c'è della roba veramente terribile. Quindi siccome a me l'horror piace, anche e soprattutto quando non è fine a se stesso, nel senso che mi piace molto l'horror come linguaggio per raccontare qualcosa, perché trovo che sia un linguaggio molto forte, molto potente, anche per far vivere allo spettatore l'inquietudine, la paura, il disturbo, le angosce di un personaggio. E quindi ecco, l'idea è stata quella, proviamo, proviamo, ripeto. Era un esperimento un po' matto che è stato possibile grazie al fatto di non aver avuto nessun vincolo progettuale di edizione. Insomma, eravamo veramente indie. Certo, sì, sì. A mille per me, più di così non si poteva. Tra l'altro eravamo tutti debuttanti nel settore autodidatti, nessuno aveva esperienza, quindi proprio l'armata a brancaleone. Fra l'altro per chi lo chiede, cioè io, proprio io, che chiede per che piattaforma è disponibile, solo PC? No. Il gioco è uscito prima per PC e poi un annetto dopo, quanto per... Un po' più di un anno. Più di un anno. Lo trovate, insomma, su tutte le piattaforme, su console e PC, quindi dategli veramente un'occhiata perché merita, sapete benissimo qualcosa, come la penso io, anche poi sullo sviluppo italiano e sulla necessità che abbiamo anche di crederci e fidatevi, in Italia ci sono dei talenti e Luca e i suoi ragazzi vanno ascritti sicuramente a questa categoria. Poi torniamo sicuramente su The Town of Light perché ho qualche altra domanda, parlavamo anche ieri appunto di aggiornamenti, di colonizzazione di nuovi mercati e sono molto curioso, però io direi che possiamo anche adesso far vedere il primo trailer, il trailer di debutto di Martha is Dead, ce lo lasciamo in sottofondo, insomma, anche se mi piacerebbe forse far sentire la canzone. Che canzone è, Luca? Io non sono riuscito a trovare. Guarda, questo mi... mi dai una gioia. Aspetta che intanto lo metto, guarda, facciamo così, ce lo dovrei avere, voilà, qua, vai. dico una gioia perché è parte proprio della soundtrack del gioco che è originale nostra, quindi non la troverai se non quando il gioco sarà uscito come soundtrack di Martha is Dead. questa è una cantante, un ex disco music, quindi viene da un mondo completamente diverso, però ha proseguito il suo percorso musicale in modo completamente differente, oggi fa principalmente musica medievale, e avevamo il contatto perché lei ci faceva da voice over test, nel senso che noi abbiamo a volte bisogno di far recitare delle parti del gioco per capire se funziona con la voce, e quindi lei, insomma, tramite i contatti si era prestata a fare questa cosa. Poi è venuto fuori, appunto, era molto brava a cantare, abbiamo detto, ma proviamo, proviamo, ed è venuta fuori questa cosa che io adoro, cioè, sono una serie di brani vintage di stile italiano che sono molto buffi anche, se vogliamo, però allo stesso tempo un po' impietanti, no? Come sono queste cose. E quindi, ce ne sono diversi di questi brani che uno potrà naturalmente ascoltare nel gioco, però avremo anche una sound track su cui puntiamo abbastanza come oggetto di richiamo. Quindi ha pubblicato il vinile? Dimmi di sì. Beh, guarda, questo è sbottolaro, perché io poi non resisto, però diciamo che sicuramente c'è l'idea, chiaramente. Ok. E questo trailer, insomma, noi l'abbiamo visto per la prima volta su un palco importante, perché mi pare fosse in un evento PlayStation, giusto? Sì, sì. Infatti è il trailer che si fece proprio per l'annuncio, diciamo, del supporto PlayStation 5. Lo rimando. ed è fra l'altro molto molto bello, secondo me, anche il contrasto che si crea comunque fra una musica che è ben ritmata e al di là poi del testo, insomma, ballad, non lo so come definirla, però, insomma, sicuramente non è piangente, ok? E invece c'è anche, insomma, questa scena con queste marionette, quelle sì, sono veramente molto molto inquietanti, però comunque non ancora esplicitamente orrorifiche e poi di un tratto invece c'è proprio il momento con la grafica di quello che poi sarà il gioco in prima persona, la grafica in prima persona che invece ribadisce quanto è appunto vicino il titolo, insomma, le tematiche horror. Ci racconti un po' di più che cos'è Martha is Dead, fra l'altro ambientato nelle campagne toscane? Sì, siamo rimasti in Toscana, ma questa è una scelta perché a noi è piaciuto tanto con The Town of Light, ma in generale ci piace lavorare nel nostro territorio perché credo che si riesca ad avere una sensibilità differente, quando tu racconti il tuo territorio lo conosci sicuramente molto bene, a parte prendi una foto e lo vedi cosa c'è e cosa non c'è, ma non è una questione di atmosfere, di dettagli, di tutti quei piccoli dettagli che poi fanno la differenza. A me colpì molto un complimento che ci fecero con The Town of Light che dissero, dice, guarda, sembra un po' come furono bravi i creatori di Stalker, altro titolo ovviamente per carità che si vuole confrontare, però nel rendere il loro ambiente, perché gli sviluppatori originali erano di lì, dice, in The Town of Light si vede comunque che appunto chi l'ha sviluppato sta parlando della sua terra e dei suoi luoghi. Ecco, questo a me fece piacere perché effettivamente io sono convinto di questo, poi non è che è un nostro marchio di fabbrica, insomma, ci piace, non so in futuro cosa faremo, se continueremo, ma probabile. E quindi niente, in Toscana sicuramente e a me piace anche giocare su questo contrasto, perché a volte hanno detto come la campagna toscana nell'immaginario collettivo non è un posto horror, tutt'altro, è un posto bello, ridente, insomma, ha quest'immagine, noi siamo proprio un anticlassico di come immaginare, quindi anche, non dico solo in Italia, ma soprattutto se iniziamo ad andare nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, la Toscana comunque è famosa, sicuramente non per essere un posto orrorifico. E quindi secondo me questo è un valore aggiunto, perché in questo modo noi possiamo giocare su questo contrasto che appunto anche nel trailer viene riportato proprio perché vuole rappresentare lo spirito del gioco, quindi tra queste atmosfere naturali, belle, ridenti, estive, e poi queste ombre invece molto cute che si presentano durante il gioco. Nel caso di Marta Is Dead rispetto a The Town of Flight siamo più sull'horror, per quanto non sia un survival, per quanto non sia basato su jumpscare, come ti dicevo prima, ci piace utilizzare l'horror come strumento per raccontare qualcosa, no? È un tipo di prodotto diverso, non so qui a dire sia meglio o peggio ovviamente, insomma. No, no, certo, è una scelta creativa, ecco. Sì, esatto, perché spesso anche nel cinema, anche nei videogame, nell'horror io vedo due grandi filoni, no? Che sono quello dell'horror per divertimento, di spaventare, farti fare il salto, e quindi è un prodotto ben specifico, e anche quando sono fatti bene è piacevole, è divertente, e poi esiste un horror diverso, più narrativo, più profondo. È un po' difficile metterli insieme, perché da un lato hai un prodotto più giocoso, più divertente, e da un lato invece hai qualcosa di diverso. Ora, Marte is Dead rimane sul lato B, diciamo, però non come The Town of Light, è un pochino, anche abbiamo sempre l'argomento sul fatto della psicologia, della malattia mentale, però in questo caso è un po' più piegato verso la narrativa, quindi il titolo è diciamo più investigativo, se vogliamo, un investigativo non tradizionale, però il gioco si apre con un dramma, con un lutto, e da lì il giocatore deve cercare sostanzialmente di capire quello che è successo. Facendo questa ricerca verranno fuori tante altre realtà, siamo nel periodo della seconda, fine della seconda guerra mondiale, quindi quando in Toscana arrivò la guerra, perché arrivavano gli alleati, fino allora diciamo, sì, erano partiti giovani, ma il territorio non aveva subito la guerra, invece verso la fine quando arrivarono gli alleati ci furono degli scontri molto violenti, che non sono la tematica principale del gioco, ma fanno da sfondo e l'idea è un po' quello di immergere questa ragazza anche problematica in questo mondo completamente folle che lei non riesce a capire. quindi come dicevo nel gioco si andranno a scoprire altre realtà, altre storie parallele, ora perché devo stare attento, capito, mi devo abbottonare. Sì, 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 ma capisco assolutamente ed è anche giusto, anche perché sennò poi il publisher viene e ti bacchetta, io non vogliamo assolutamente, no, no, già insomma io ho i miei problemi con colpi di tosse, accenni ad altre produzioni, no, 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 esatto. Senti, nel primo trailer voi avete utilizzato anche appunto questo stratagemma visivo e narrativo di queste marionette, di questi pupazzi, come li possiamo chiamare, di questa rappresentazione un teatrino meccanico, è una cosa che troverà spazio nel gioco finale o diciamo era una soluzione scelta appositamente per presentare il prodotto? No, no, troverà spazio nel gioco, assolutamente, non è la parte dominante del gioco, la parte dominante del gioco è un esplorativo in 3D, quindi un'avventura insoggettiva, però esistono vari momenti in cui si utilizzerà questo linguaggio e saranno anche momenti abbastanza complessi, come meccanica di gioco, ecco, non saranno... Interattivi, quindi? Assolutamente interattivi, sì, 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 assolutamente interattivi, li abbiamo usati per qualcosa di specifico, però questo lo si scoprirà. Lo si scoprirà poi, certo, certo, assolutamente. Avete fatto, quindi, ricerche storiche, ma sono curioso di sapere se avete, come avete fatto anche poi al tempo al manicomio di Volterra, cioè se avete fatto fotografie, siete andati a fare ricerca, location scouting, oppure vi siete generalmente, avete creato degli ambienti completamente di fantasia, ispirati magari, insomma, ad una mood board, a un set di foto e di colore un po' più generico, oppure ci sono dei riferimenti specifici sul territorio? Guarda, no, nel senso, siamo rimasti più vicini, quindi c'è stato meno bisogno di fare campagne fotografiche e cose rispetto a quello che è stato con il manicomio di Volterra. Siamo veramente, in questo caso siamo sotto casa quasi, siamo a un chilometro di distanza dalla location. La casa principale dove è ambientato il gioco esiste ed è stata ricostruita non esattamente identica, ma quasi, cioè parliamo di una porta in più o in meno. Abbiamo usato anche fotogrammetria per ricostruire parte della casa. Il bosco non è esattamente quello che è nella realtà, però è fortemente ispirato al bosco tipico di queste zone. E in più ci sono vari punti di interesse, diciamo, che sono stati presi dalla zona, veramente li abbiamo un po' concentrati, se no diventava un'enormità. Però è molto, abbiamo cercato di essere molto fedeli alla realtà, per quello che ti dicevo, cioè, perché può sembrare anche una mania, no? Diceva, beh, ma in fondo puoi pure inventartele le cose. Però non lo so, cioè, la realtà ti dà veramente una quantità di materiale su cui lavorare incredibile. Quindi, non so, io credo che, a meno di non avere idee estremamente forti che richiedano la creazione di un ambiente inventato da zero, la realtà a volte ti offre, su un piatto d'argento, delle realtà magnifiche e via dicendo. E quindi, ecco, è stato più semplice. Io, se devo verificare se l'atmosfera è quella giusta, esco di studio, capito? Certo. Esci dopo il tramonto e poi, però, di la verità, dopo che ci hai ambientato il racconto, adesso ti sei più, sei meno sicuro a uscire in ore più buie. Ma, guarda, un po' può essere. Cioè, devo dire la verità, poi, di notte nel bosco non ci vado, non so neanche perché. Sarebbe pericoloso per altre ragioni. Però vado spesso a farmi delle belle passeggiate nei boschi e, effettivamente, insomma... Allora, ragazzi, io intanto vi chiederei veramente, abbiamo parlato con tanti sviluppatori e tutti ci dicono sempre che le wishlist di Steam sono molto importanti anche per, diciamo, la buona riuscita poi delle campagne di comunicazione fatta su Steam stesso, eh. Quindi, visto che Roberto sta spammando il link, sono veramente solo due click. Semplicemente entrare su Steam, mettere il gioco in wishlist è importante per supportarlo, mi raccomando, fatelo tutti, non vi costa niente ed è una cosa preziosa per tutti quanti, per il team LKA e per lo sviluppo italiano. Quindi, davvero, insomma, una raccomandazione molto accurata che faccio. Luca, vuoi entrare un po' anche nelle scelte tecniche? Tu dicevi, insomma, che hai iniziato a lavorare con Unity, hai fatto corsi di utilizzo di Unity, ci racconti quali strumenti avete scelto per sviluppare questo prodotto? Come siete andati avanti poi rispetto anche a quelli che erano state le conquiste tecniche di The Town of Light? Sì, beh, guarda, innanzitutto, devo subito dire che Marte's Dead è sviluppato con Unreal Engine. Certo, sì. Questo, io usavo Unity perché credo che per micro team, perché effettivamente quando ero da solo, eravamo in due, è un ambiente di lavoro più adatto, molto più semplice, soprattutto l'approccio alla programmazione. Quindi, insomma, effettivamente per un piccolissimo team credo che sia una scelta giusta. Però poi se vuoi fare grafica 3D realistica, allora bisogna passare per forza di cose su Unreal. Noi abbiamo avuto, abbiamo visto veramente una differenza incredibile. Poi adesso, devo essere sincero, non so se Unity è riuscito a recuperare, quanto è riuscito a recuperare. Però sicuramente sulle capacità, soprattutto a livello di gestione, di ambienti complessi, e poi di shader, di materiali, è proprio un altro mondo. L'illuminazione è tutto, diciamo, è anche più facile avere una buona resa. E questo per uno strumento è fondamentale, perché ci sono strumenti potenti, dove però ottenere quello che vuoi ottenere diventa difficilissimo, e non sempre poi c'è il tempo e la capacità anche, no? Di ottenere, perché Unity rilasciava delle tech demo pazzesche, e uno le vedeva e diceva, beh, siamo noi che abbiamo qualche problema. E invece poi andavi a vedere, era tutto custom, tutto fatto su modifiche, sull'engine, che peraltro su Unity non è disponibile a tutti. Quindi, insomma, sono un po' quei trucchettini di marketing che capisco, però posso dire che fino alle versioni che usavamo noi, avere una buona resa grafica era veramente una passione su Unity. E credo che The Town of Flight, anzi, diciamo, noi siamo stati molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare, anche se ovviamente ormai si vede che è un po' datato, e anche quando uscì non era il top graficamente. Però veramente è stato molto difficile. Passando ad Unreal, si è aperto un altro mondo, quindi naturalmente tutte le sagge decisioni che avevamo preso all'inizio di ottimizzazione dell'ambiente e tutte sono andate tutte per l'entusiasmo, no? Che si può, si può, si può, vabbè. E poi è bello un po' mettersi nei guai, a volte soprattutto quando si cerca di fare di più, no? Si cerca, si ora, diciamo. Per i creativi è quasi sempre bello mettersi nei guai, ti dico. Vero, sì. Io penso, anche perché uno si mette in gioco, no? Altrimenti, insomma. Ed ecco, Unreal, con tutti i suoi problemi, perché non è che sia rio di problemi, però ti dà una marcia in più da questo punto di vista. E ci siamo specializzati molto di più, perché alla fine di The Town on Flight eravamo comunque una decina di persone, perché poi nell'ultima parte dello sviluppo spesso si aggiungono elementi. Questa volta forse avverrà un po' meno, perché comunque avendo un publisher che sta lavorando veramente tanto sul nostro titolo, Wired Production, e devo dire veramente stanno facendo un lavoro incredibile, nel senso che sento spesso, purtroppo gli sviluppatori si sentono un po' abbandonati, no? Dai publisher, dice sì, però non è che ci seguono tanto. Noi, ecco, forse abbiamo il problema contrario, nel senso che loro sono molto presenti, ma in positivo, eh, per carità. Però a volte dice, beh, per favore, lasciateci, no? E stanno veramente facendo un grande lavoro sotto molti fronti, ci hanno dato anche tante possibilità in più, perché appunto nell'ultima fase dello sviluppo vengono fuori delle questioni, come, guarda, ho seguito con grande interesse il talk sulla localizzazione, che noi stiamo proprio per entrare in quella fase tragica, perché è un lavoro difficilissimo, lungo, complesso, costoso, ed è un peccato proprio dover rinunciare, no? Magari a delle lingue, a dei voice, e quindi lì il publisher ti dà una marcia, cioè, mentre su Time of Flight ci eravamo dovuti inventare un po' tutto noi. Alla fine, guarda, venne anche un lavoro discreto, però un errore grosso si fece con la localizzazione inglese, e poi per l'appunto, quindi la più importante che poteva esserci, e si pagò un pochino, insomma, si dovette rifare tutto. Quindi rimaniamo, diciamo, questa volta il team si espanderà un pochino meno, perché il publisher andrà a coprire dei ruoli che prima aspettavano a noi, però è un team tutto dedicato allo sviluppo in questo momento, e quindi c'è sicuramente una forte specializzazione. Io purtroppo nel mio ruolo di screenwriter e poi di direzione del progetto ho perso un po' l'artigiano che era in me, a me piaceva mettere le mani sul codice, sul codice, sull'engine, sul software 3D, io tutto fare, era una cosa che mi piaceva tantissimo. Però il gioco lo senti sempre molto tuo, sì. Ah beh, certo, assolutamente. No, 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 questo è per cari. No, no, perché sai, capita, però, capita a team veramente enormi, in cui magari la mente creativa dia l'abbrivio, butti giù le idee e poi si sente un po' viva la sindrome dell'abbandono, o anzi... No, 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 a me dispiace solo un po', appunto, per la mia smania di mettere le mani, però, per carità, questo è stato un passo fondamentale, poi tra l'altro, guarda, assolutamente noi tutte le decisioni, anche sulla storia, i cambiamenti, come ti dicevo prima, lo facciamo sempre tutti insieme, quindi, essendo un team molto unito, nonostante ora sia un anno che noi lavoriamo in smart working dopo la prima emergenza Covid, però sicuramente decidiamo quasi tutto insieme, cioè non c'è una struttura dove c'è un reparto creativo che poi passa la roba a chi la deve realizzare quasi senza un contatto, no? Insomma, assolutamente, ecco, no, questo, assolutamente, quindi questo ti porta anche a sentire il gioco più tuo, perché sei sempre dentro a tutte le problematiche tecniche, anche che ormai non ti appartengono più in modo diretto, però sei sempre lì dietro a tutto e questo è fondamentale. Diciamo che credo che ancora la dimensione di Tim lo permetta. Lo permetta, certo, assolutamente. Allora, guarda, io farei vedere un altro trailer, perché ce li ho tutti quanti, forse ce li ho tutti quanti, sì, 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 tre sono, giusto? Ho sbagliato, no? Come? Guarda, sai che non lo so neanch'io di preciso, perché sì, diciamo quelli principali tre sono. Eccolo qua. Da questa tua ultima risposta mi sono nate diverse curiosità. La prima, visto che l'hai citato, è come è nato il rapporto con il publisher? Vi hanno cercato loro, l'avete cercati voi. Quando è successo il primo contatto, c'è stato qualche realtà che vi ha aiutato a entrare in contatto con il publisher? Hai già anticipato che insomma vi trovate molto molto bene, c'è una comunione di intenti e loro stanno lavorando bene, però sono curioso anche di capire come un team italiano può arrivare ad avere un rilievo così su dei palcoscenici internazionali che penso e spero vi abbiano portato anche buone cose a livello di numeri, ecco, di interesse del pubblico. Sì, sì, sicuramente, sicuramente perché poi sai tutto quello che è promuovere il prodotto è talmente complesso che non lo puoi fare da te se lo vuoi fare a un livello un pochino elevato. La storia of Wired è lunga perché io li incontrai la prima volta nel, non mi ricordo l'anno, una Game Connection a Parigi e ancora doveva uscire The Town of Light ma insomma ancora penso mancasse più di un anno, forse due all'uscita e ci corteggiarono un po', c'è Leo Zullo in particolare era molto, si era appassionato a The Town of Light proprio come idea, proprio quest'idea che invece molti un attimino dicevano aspetta questo commercialmente potrebbe essere un rischio, a lui era piaciuta perché c'era un'empatia personale evidentemente per questo tipo di... però in quel momento noi si glissò perché, ti dico la verità, la paura di non riuscire a finirlo, di non essere... non so, ti ho detto come era nata la cosa, quindi vai, cioè prendere un impegno poi è un impegno insomma, e quindi insomma si lasciò cadere la cosa. Poi tornarono, sempre loro, sempre Leo, tornò alla carica dopo l'uscita PC per chiedere se eravamo interessati a fare il porting per console perché noi da soli non ci avevamo neanche pensato perché già farlo uscire su PC fu un parto doloroso, tu immagini no, la prima uscita, il panico proprio. E allora invece con il loro supporto si disse, perché no, insomma, ci diedero una mano anche finanziaria per fare il porting, poi ci vuole una quantità di tempo incredibile perché tutte le difficoltà, però insomma è stato anche molto importante come know-how per il team capire come funzionano due mercati completamente diversi per il publisher, il guest team è un sogno, no, è semplicissimo, è immediato, invece di là insomma c'ho tanti ostacoli. E il gioco è uscito più di un anno dopo, quindi chiaramente non ha avuto il vantaggio di una release multipiattaforma, però i suoi numerini li ha fatti e poi loro insomma erano molto contenti e quindi abbiamo iniziato a parlare dei progetti che c'erano per il futuro e quasi da subito abbiamo deciso di collaborare. La cosa bella è stata che noi essendo riusciti a essere beneficiari di Europa Creativa abbiamo avuto dei buoni fondi europei, a fondo perduto per lo sviluppo del gioco e poi si è unito un gruppo italiano che ci ha aiutato nel finanziare lo sviluppo e quindi ci siamo trovati in una condizione buona perché non siamo dovuti andare dal publisher per farci finanziare completamente lo sviluppo del gioco. Siamo riusciti a rimanere un pochino indipendenti, anche se sono convinto che non avrebbe Wired interferito sulle scelte relative al gioco perché non è proprio il loro stile né con noi e con gli altri sviluppatori che hanno lavorato con loro. Questo io lo apprezzo molto, nel senso chiaramente ci danno un sacco di consigli utilissimi, però diciamo c'è questo profondo rispetto per il lavoro creativo, questo è molto bello. Però l'esperienza secondo me è stata ancora più positiva perché avendo comunque il team di sviluppo con il suo budget, questo ti pone in una trattativa diversa, perché cosa vuol dire? Vuol dire che quando il gioco esce tu comunque avrai delle royalties sostanziose sulle vendite, quindi rimani in questo circuito in cui non sei lo sviluppatore, una volta che esce il gioco il tuo lavoro praticamente l'hai finito, parte il supporto, ma beneficerai del successo, ci rimetterai del non successo del titolo che va ad uscire e questo a me piace. E quindi con loro siamo riusciti a mantenerlo, anche perché sono molto poco rigidi per quanto riguarda il tipo di contratto che si va a chiudere, loro non hanno una formula, si parla e si vede cosa funziona. Quindi questa è stata la storia con loro. Bene, ho fatto vedere il trailer quello diciamo con la, non con lo scalpo, vabbè insomma, sì con la, quello più crudo, con la rimozione e il pubblico è già a prezza, mi raccomando Steam e Wishlist, veramente, mi dicono anche forza preparati all'Horror Night, Luca io te lo dire, cioè io vi ringrazio come team per quello che rappresentate, per lo sviluppo italiano, però un pochino, tu devi sapere che io con gli horror c'ho un rapporto spinoso, nel senso me li gioco, molto spesso anche in diretta e mi generano un'ansia perché io sono molto empatico quando gioco, mi medesimo molto e quindi ti ringrazio, mi darai materiale per far divertire, ecco, i ragazzi dicono forza preparati all'Horror Night, sono già tutti lì che fremono. L'altra domanda, come? No, abbiamo anche dei membri del team che non apprezzano l'horror particolarmente, nel senso gli piace ma sono abbastanza ansiosi, quindi abbiamo dei tester interni se effettivamente il gioco fa un po' paura oppure no. Oddio dopo quattro anni di sviluppo, sai, hai perso un po' l'emozione. Certo, certo, ci hai fatto il callo, sì sì, alle scene anche quelle magari un po' più disturbanti. Mazzottano, non lo so chi lo recensirà, se lo recensirò io, lo recensirà Ale, Rache, non lo so. La domanda che volevo farti Luca è, voi siete partiti con un trailer tutto in inglese, tra l'altro recitato secondo me molto bene, non so se avevate trovato un'attrice, nel senso un'attrice in lingua appositamente per quel trailer. Poi nel gameplay che avete fatto, avete concesso ai colleghi di IGN, tra l'altro se vi va ragazzi, su IGN trovate 17 minuti di gameplay del prodotto, quella era una demo, una build in italiano, giusto? Sì, sì, perché qui viene fuori il problema di cui parlavate prima nel talk recente con Fabio, scusa, io ora non mi ricordo... Sì, sì, Fabio Portolotti, sì, sì. Fabio, ecco, non mi veni a... con Fabio, perché naturalmente noi sviluppiamo in italiano i testi, scriviamo in italiano, e andarli a tradurre ogni volta che devi far vedere il gameplay, cose, diventa veramente estremamente complesso, e poi sono proprio risorse sprecate, perché magari vai a tradurre 4-5 mila parole, che poi tu praticamente, non dico che riscrivi integralmente, ma quasi, e quindi capito, perché ogni volta che vai a tradurre è una fatica, perché appunto vuol dire rapporto col traduttore, noi come piccolo studio, infatti mi tornava tantissimo come diceva Fabio, noi siamo attentissimi alla traduzione, a me piace essere in contatto diretto con chi traduce, chi traduce ha la possibilità di vedere il gioco, insomma, si cerca di dare una cura alla traduzione molto forte, anche perché è un gioco molto narrativo, quindi... Certo, è proprio questo mi aveva colpito, cioè voi, visto che siete così piccoli, cioè quando fate il doppiaggio in italiano, cioè c'è qualcuno che dirige, voi fate anche la, tra virgolette, la regia di questa attrice che poi presta la voce. Sì. Sono curioso, la gestite tutta internamente, supervisione, tutto. Sì, con The Town of Light abbiamo fatto tutto noi, però era molto più semplice perché c'era una sola voce, c'era solo la voce della protagonista, poi era molto anche più ridotto come numero di parole. L'abbiamo fatto comunque in uno studio di registrazione a Roma, dove comunque Angela Lopalco, mi sembrava, io con i nomi avrei capito che sono un disastro, comunque che lei fa voice over in italiano o per giochi normalmente inglesi, quindi invece si è trovata a fare un lavoro un po' diverso, perché abbiamo fatto in realtà da lei la versione inglese, quindi è stata una cosa. Sì, sì, sì. Ha saputo impostare meglio l'attrice sicuramente. Quindi io posso dire sicuramente quello che voglio ottenere, però a volte mi manca proprio il linguaggio per… Sì, sì, però quello che volevo dire è che hai un contatto diretto immediatamente con il risultato che esce da questa sessione, quindi insomma… Sì, 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 assolutamente. Io ci devo essere per forza di cose. Questa volta credo che faremo il master in italiano, perché comunque insomma dal mio punto di vista è meglio perché è più facile fare una direzione per me dettagliata e accurata su un doppiaggio in italiano piuttosto che in inglese, perché ci sono differenze a livello recitativo, ci sono varie cose che cambiano e per cui sicuramente è un pochino più difficile farlo direttamente in inglese. Poi voglio dire, siamo italiani, perché no, nel senso diamo anche alla lingua, perché tra l'altro anche in The Town of Flight è capitato molto spesso di sentire persone che hanno giocato in italiano con i sottotitoli inglesi, perché comunque anche la lingua può essere un valore. Certo, così come capita a noi di guardare film in lingua originale sottotitolati, perché è un videogioco che nasce qua da noi, non può ricevere lo stesso trattamento da parte di utenti internazionali. Sì, sì, sì. A tal proposito mi dicevi, ieri io e Luca abbiamo fatto una chiacchierata prima di, insomma, una chiacchierata informativa un po', e Luca mi raccontava che con The Town of Light, poi anche per amore del prodotto e volontà di supportarlo continuativamente, avete fatto un aggiornamento in cui avete aggiunto due lingue così, insomma, inizialmente per, sì, per dare appunto continuità al prodotto senza aspettarvi grandi cose, grande ricezione da parte di questi paesi, le lingue orientali, e in realtà avete scoperto un mondo, ci racconti un po'. Sì, sì, questo infatti, vedi, la localizzazione è, secondo me, uno dei settori spesso sottovalutati, più sottovalutati nell'arco dello sviluppo di un gioco, perché sia come complessità, sia come costi, sia come tempi, sia come anche risultati poi commerciali. Noi abbiamo sempre cercato di fare, supportare più lingue possibile, e l'inglese, come ti ho detto, c'era stato un problema, il tedesco siamo stati fortunatissimi, perché abbiamo avuto due grandi youtuber tedeschi che si sono appassionati al gioco, e quindi ci hanno fatto questo lavoro, che oltre ad averlo fatto molto bene, naturalmente ci hanno anche, hanno portato conci la promozione in Germania fortissima. Quindi The Town of Light già nasceva con diverse lingue, ora dopo, proprio per il quinto anniversario, peraltro, quindi un gioco di cinque anni ormai, che non ti aspetti che possa essere ancora vitale, e abbiamo pensato, siccome lo chiedevano abbastanza spesso, di fare la localizzazione in cinese e di riportare quella giapponese che era stata fatta, però in esclusiva per PlayStation. Ok. E quindi sempre grazie a Wired che ci ha dato una mano, perché naturalmente loro hanno tutti i loro studi, le loro cose, insomma hanno una filiera consolidata rispetto a noi che ci saremmo dovuti improvvisare, anche perché quello della localizzazione è un mondo strano, dove bisogna anche stare attenti a non prendere fregature, detto proprio come va detto, e soprattutto quando cerchi di spendere poco, no? Perché, capito? Invece hanno, loro ci hanno dato una mano, abbiamo fatto questo lavoro, aggiunte le lingue, abbiamo avuto un bel riscontro, non esplosivo, però l'ultima scontistica che ha fatto The Town of Light, abbiamo fatto 3.500 copie in una settimana per un piccolo indie italiano di cinque anni fa, direi che è un bel risultato. E comunque se è mosso il mercato, oggi la Cina già avanzava ed era diventato il secondo mercato degli Stati Uniti, se io vado a vedere su Steam le risultanze da quando è uscito la localizzazione cinese, adesso la Cina è il primo mercato in assoluto. Per The Town of Light, ovviamente. Per The Town of Light, chiaramente, per The Town of Light. Io appunto parlo della nostra esperienza, so che la Cina è diventato un mercato molto importante, però probabilmente anche il tipo di prodotto che facciamo noi piace, nel senso l'avventura, horror, narrativa, vedo che anche loro sono abbastanza prolifici di questo tipo di titoli, anche molto belli, quindi probabilmente hanno un gusto particolare anche per lo specifico prodotto. Quindi credo che anche in Marte Is Dead cureremo molto il cinese, perché sembra veramente... e poi anche i riscontri dalle review su Steam sono molto positivi, cioè il prodotto è piaciuto e io sono convinto che averlo creato come un prodotto italiano sia un plus in questo caso, perché è molto affascinante per una cultura abbastanza lontana dalla nostra anche vivere per qualche ora una cultura diversa, che però non sia una cultura solo di fantasia, ma che sia una cultura la ricostruzione di quattro voi reali. Certo, radicata nel tessuto del reale, certo, assolutamente. I Kigami... vai, 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 procedi, scusa. No, dicevo poi penso che soprattutto giochi dove la narrativa è importante, una narrativa un po' autoriale, se vogliamo, dove c'è anche degli aspetti drammatici, avere la voce nella propria lingua è estremamente importante, insomma, che riesci ad avere un livello di immersione differente. I Kigami chiede se c'è una finestra di lancio prevista? Ma diciamo... quest'anno, quindi molto vaga, secondo semestre di quest'anno, diciamo, come... Poi sai, queste sono così le idee, però anche da questo punto di vista, fortunatamente cerchiamo di uscire quando il gioco è pronto. Bravo. Ecco, noi pensiamo che sia pronto e lo sarà, io mi auguro fortemente per quella finestra, però se non dovesse esserlo andremo oltre. Non abbiamo mai avuto pressione, cioè, anzi, e forse siamo più noi a spingere per rispettare le milestone, per entrare in alfa, in beta, no? Queste cose qui rispetto al pubblico, che invece è di solito quello che ti punzecchia per andare avanti, perché, appunto, ti ho detto loro danno grande cura al prodotto e se tu un prodotto lo vuoi curare bene non lo puoi far uscire quando non è pronto per uscire. Senti, si dice Nemo Profeta in patria. Com'è andato in Italia il Town of Light? Chiedono. Beh, non male, non male, naturalmente l'Italia non è un mercato forte per l'indie, lo era molto meno cinque anni fa, tra l'altro quando uscì il Town of Light, nelle statistiche era veramente trascurabile l'Italia come mercato per i titoli indie, e per noi non è stato trascurabile, naturalmente non è stato uno dei primi quattro, cinque mercati, però credo abbia fatto il 6%, quindi, insomma, è andato bene. Devo dire, abbiamo avuto una copertura favolosa in Italia, e non mi sarei mai aspettato sia dalla stampa di settore che, ancora più a sorpresa, dalla stampa generalista, che ha colto l'operazione con grande favore. Noi avevamo paura di essere anche criticati, sai, c'è sempre il posto spettro del videogioco, invece nella nostra esperienza devo dire, evidentemente basta essere precisi, saper comunicare quello che stai facendo in modo chiaro, e francamente siamo usciti su tutti i quotidiani più importanti in Italia, sempre con pareri molto favorevoli, e anche poi nel resto d'Europa, quello poi addirittura era proprio imprevisto, ma quindi l'Italia, secondo me, non è un mercato da trascurare, assolutamente, e torna il discorso, cioè il prodotto che poi viene, esce in italiano, con la lingua italiana fatta bene, perché è quella nativa, quindi per forza di cose, scritto bene, e poi probabilmente incontra anche più favori, questo è naturale, purtroppo a volte i titoli, vedo, escono questi titoli indipendenti solo in inglese, che la capisco come scelta, perché abbiamo detto i costi, le problematiche di localizzazione, però io penso che veramente sia un valore aggiunto troppo importante, troppo importante, io sono convinto che un titolo come The Town of Light, se fosse stato solo in inglese, in Italia avrebbe avuto un riscontro completamente diverso. Awanas Game dice, quanto mi piace sentire parlare ai programmatori ed addetti a se tu al settore italiani, il pregiudizio culturale verso il medio è un videoludico, tra i grandi paesi d'Europa è presente solo da noi ed è un indice di ignoranza e bigottismo, una ferita aperta, quindi insomma. Purtroppo, però diciamo che stanno anche un po' cambiando le cose, io, insomma, si fatica, perché visto anche, hanno fatto una legge per finanziare, legge cinema del 2016, però ancora non ci sono i decreti attori, cioè si fatica tanto, questo poi, vabbè, ne so, successe di tutte da quel momento e diciamo che sicuramente in Italia manca, manca proprio il finanziamento pubblico, questo sarebbe, darebbe una spinta spaventosa, finanziamento che esiste nel cinema e spesso purtroppo poi viene utilizzato anche un po' in modo un po' improprio, probabilmente, però non sempre ed è necessario, necessario. Io credo che a livello culturale però le cose piano piano stiano stiano cambiando, la percezione stia cambiando, questa almeno è stata un po' la nostra sensazione, sicuramente rispetto ad altri paesi siamo... Indietro, certo. Luca, noi ci avviamo più o meno verso la fine della nostra chiacchierata, c'era una domanda, diciamo, più concettuale che volevo farti, che anche questa era emersa dalla nostra chiacchierata di ieri. Tu, quando hai presentato la tua azienda e il tuo team, hai detto giustamente che il vostro background era un po' particolare, perché lo possiamo dire, tu vieni anche dal teatro, nel senso che studiavi con Unity, facevi con Unity messi in scena, cioè simulazione di scene teatrali. Sì. Sì. E ecco, molto spesso si accosta il videogioco al cinema, alle volte per me anche un po' impropriamente, perché è vero che il videogioco è un medium che alle volte ingloba anche i linguaggi delle altre arti e molto spesso, anche quando si parla di scene non interattive, si può parlare di sceneggiatura, si può parlare di regia, si può parlare di movimenti di camera e non è un mistero che in certi casi in effetti ci sia un intento mimetico da parte del videogioco nei confronti del cinema. E tu mi dicevi che però, insomma, ultimamente stai anche pensando che in effetti ci possano essere anche dei punti di contatto invece tra videogioco e teatro, perché nel teatro lo studio della scena è un po' diverso, ci racconti un po' questo punto di vista? Sì, sì, guarda che tra l'altro appunto è una cosa che sto scoprendo adesso, poi evidentemente esisteva, è sempre esistita ed è stato anche un patrimonio che io ho portato dall'esperienza teatrale nel videogioco, però sono assolutamente d'accordo sul fatto che secondo me il linguaggio del videogioco e il linguaggio cinematografico, anche parlando solo dell'aspetto visivo, perché poi è chiaro che l'aspetto interattivo non c'è nel cinema, quindi non se ne può parlare, però credo che siano due linguaggi molto differenti, se non appunto quando parliamo dei cutscene, allora lì siamo nel cinematografico puro, se vogliamo. A me è capitato poi, perché è una cosa che mi appassiona molto questo confronto, mi è capitato di partecipare a vari eventi in cui si parlava e si confrontava cinema e videogioco, però ecco c'è una grande difficoltà, perché c'è un po' questa invidia reciproca, per cui noi che facciamo i giochi invidiamo la linearità del film, perché è una forma di serenità, no? Perché tu sai quello che vedi, sai quello che è, va tutto liscio, mentre naturalmente chi fa cinema invidia l'interattività, hai esattamente il contatto. Ecco, il teatro naturalmente se ne parla molto meno, perché è sicuramente meno importante ed è un'industria molto più povera, però sicuramente ha dei punti di contatto. Noi appunto si facevano queste simulazioni per quale motivo? Perché quando tu hai il pubblico, noi facevamo proiezioni di immagini su grandi spazi, in Italia abbiamo fatto, non so, le terme di Caracalla, per esempio, erano tutte proiettate da 160 metri di fronte di proiezione, era molto bello, poi noi facciamo lirica, a me onestamente non è che fosse proprio la mia passione, però insomma come scenografia era molto affascinante. E qual era la problematica? Che il pubblico non è, non ha un unico punto di vista, cioè se io sono in sala, al cinema, anche se mi metto un po' di lato, mi gireranno un po' le scatole perché non sono in mezzo, però quello che vedo è la stessa cosa. In teatro no, posso io, posso vedere un attore, posso vedere il viso di un attore da un posto e vedere la schiena da un'altra addirittura, quindi avere una visione completamente, completamente diverso. E questo, proprio nella produzione teatrale, rende le prove una fase fondamentale per ottimizzare, a parte per provare recitazione, perché poi lì vai live, no? Non è recitato, quindi i cantanti hanno bisogno di tante prove. Però anche la scenografia, anche il visivo, quindi il fronte visivo, ha bisogno di provare, perché è molto difficile prevedere quello che il pubblico vedrà. Ecco, questo in fondo avviene nel videogioco, perché tu quando crei una struttura, lì addirittura nel videogioco siamo a 360 gradi, però diciamo si va a espandere quella che è la problematica che comunque nel teatro esiste. Cioè cerco di creare un ambiente non perché è bello visto da quell'angolazione e spero che quello passi di lì, no, io devo creare un ambiente e pensare a tutte le possibili posizioni che il giocatore potrà assumere a tutti i punti di vista e quindi l'ambiente deve essere curato e è una cosa che comunque va considerata. Quindi questo ecco anche a me è venuto in mente dopo quasi dieci anni ormai nel mondo dei videogiochi che effettivamente forse è più vicino il videogioco al teatro come linguaggio rispetto al cinema. Oltretutto nel teatro, in questo caso non lirico ovviamente, anche il concetto di interattività in modo completamente diverso è molto primitivo, però esiste nel teatro sperimentale, il coinvolgere il pubblico eccetera eccetera. Quindi probabilmente ecco è una scuola così in modo inatteso almeno per me più vicina al videogioco rispetto a quella cinematografica che è molto più rigida se vogliamo. È un bellissimo spunto, ti ringrazio tantissimo insomma per averlo portato alla luce. Devo dire che anche per me è una cosa molto molto nuova forse proprio perché è difficile entrare in contatto con opere teatrali o comunque insomma seguire con costanza questa branca e quindi insomma è un po' più complesso anche fare ragionamenti di questo tipo. Probabilmente saranno veramente poche le persone che dal teatro sono passate del videogioco, è un passaggio abbastanza strano, ripeto, per me è stato proprio quest'opportunità, a parte la passione, però sai la passione se poi non hai gli strumenti rimane tale. E lì invece quando io attraverso quel lavoro che al tempo era il mio lavoro ho raccolto e imparato gli strumenti per poi poter sviluppare un gioco però è credo una fatalità, proprio un caso molto molto singolare. Certo. Sarebbe curioso se c'è qualcun altro. Bene Luca, siamo siamo in chiusura di questa di questa nostra chiacchierata. Io ti devo ringraziare tantissimo perché è stata dopo la nostra telefonata di ieri non avevo assolutamente nessun dubbio ma è stata molto molto interessante e spero che sia piaciuta anche ai ragazzi. Io ti chiederei giusto questi due minuti di chiudere su Martha Is Dead, rinnovando fra l'altro a tutti quanti l'invito a mettere il prodotto in wish list su steam. Giancarlo ti dice Luca sei un figo, tutto molto interessante. È piaciuta, è piaciuta, arrivano... Mi fa piacere, via. Io sono proprio contento di condividere la nostra esperienza. Ho detto come autodidatta hai sempre la passione di raccontare quello che hai fatto, quello che hai vissuto. Quindi mi piace proprio, spero che si percepisca, insomma che mi appassiona comunicare, insomma riportare la mia esperienza. Ultimo riassuntone di quello che è Martha Is Dead veramente in 30 secondi. Dove si può trovare dove uscirà, dove si può dire però, cioè nelle piattaforme per cui è stato annunciato. Niente, niente di nuovo. Sì, 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 no, no, certo. Io poi ho i miei paletti, quelli non si toccano. No, sono pochi. Guarda, allora, vabbè, PC ovviamente, questo è inutile dire. Next Gen sia PlayStation che Xbox, nelle varie declinazioni. E poi naturalmente porting anche su PS4 e Xbox One. E non sarà facile perché ovviamente devi far convivere dei mondi tecnologici molto lontani, però insomma cercheremo di fare il massimo che comunque ancora sono piattaforme estremamente importanti. E per ora questo è il parco. Altre possibilità come realtà virtuale, Switch, sono in discussione, quindi non lo sappiamo neanche noi, quindi proprio non posso sbagliare perché non lo so. Però diciamo la realtà virtuale interessa sicuramente anche perché grazie ad Half-Life Alyx c'è stato un aumento di hardware di base. Sarebbe bello. Vedremo sicuramente dopo la release perché altrimenti sarebbe troppo. Luca, ti strappo allora la promessa di un ritorno anche perché proprio di realtà virtuale si potrebbe parlare, visto che comunque anche con The Town of Light lo avete garantito, poi siete approdati anche in quel settore. E sarebbe molto interessante proprio anche se volessi tornare anche con qualcuno del tuo team che è stato più operativo sul codice anche a parlare di questa questione del supporto, cioè sviluppo per NextGen e poi porting per il gen, quali sono le logiche. Il mio pubblico è sempre affamatissimo di informazione e anche questioni del genere possono risultare estremamente interessanti, seppur siano un po' più tecniche che creative. Magari possiamo organizzare un'altra retta di chiacchiera con qualcuno. Volentico, quando vuoi più che volentieri. Posso dare una risposta immediata? Mi chiedono ci sarà solo il formato digitale? No, non credo perché Wired ci tiene molto a fare anche delle edizioni da collezione molto curate e molto belle, quindi sicuramente ci sarà anche una versione fisica e con un sacco di contenuti e di gadget diciamo in previsione. Bene, molto bene, sicuramente avrai fatto la felicità di molti perché l'edizione fisica e poi l'edizione fisica con la gadgettistica hai già acceso gli entusiasmi. Ragazzi, io adesso stacco e lascio la palla a Sidonia che per un paio d'ore vi fa compagnia con Monster Hunter, poi stasera dalle 21 ci sarà Alessandro che vi fa vedere la technical alpha di Diablo 2 Resurrected con tanto di giveaway, quindi durante la diretta verranno elargiti non uno, non due, ma ben tre codici della technical alpha. Luca, resta un attimo con me che poi ci salutiamo dopo che ho chiuso la diretta. Ragazzi, grazie a tutti per il supporto, grazie per le domande, per l'interesse. Luca, grazie a te, è stata una chiacchierata piacevolissima, condotta veramente ottimamente e grazie di nuovo per quello che fate per lo sviluppo videoludico in Italia. Mi raccomando, ragazzi, supporto a Marta Is Dead, basta solo seguire i social, metterlo in wishlist su Steam, condividere un trailer o parlarne con gli amici. Baci a tutti quanti, ciao ciao!